Si trova in altra terra di lavoro, provincia di Frosinone, Valle di Comino, veramente. Valle di Comino, quindi? Ex Agnone una volta. E la vostra specialità qual è? È la Zambogna. Noi giriamo tutto a Napoli sempre, la persona della Zambogna. Ma venite il 28 novembre? Sì, sì. Ma noi era l'Immacolata. Ma voi non... Veramente vado a Caivano. A Caivano? E io con l'altro là va a Maddaloni. E poi? Beh, siamo fatti ora annunziata per tutti i paesi. Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo. Prego! Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo. Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo. Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo. Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo. Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo. Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo. Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo. Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo. Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo. Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo. Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo. Allora tutti quanti, adesso li sentiamo qui dal vivo.